Oggi importante appuntamento all'ospedale di Foligno, Sala Lesini, incontro tra medici di medicina generale e medici professionisti ospedalieri per la presentazione del PDTA del paziente oncologico gastroenterologico. È un momento di particolare sinergia e alleanza tra medicina territoriale e medicina ospedaliera. Attraverso questo percorso si vuole garantire la presa in carico globale del paziente e quindi assicurare cure certe, tempi certi e quindi evitare quel fenomeno cui abbiamo assistito per lungo tempo negli ultimi anni di trasferimento di pazienti fuori regione. Vogliamo in questo dare una qualità maggiore alle cure e alla sanità territoriale e ospedaliera di questo territorio. È un'esperienza che abbiamo qui in via sperimentale e naturalmente come ipotesi pilota che cercheremo poi di esportare anche negli altri territori. Oggi quindi andiamo proprio a sancire un patto con la medicina di base, con i medici di medicina generale che costituiscono il primo anello di una catena molto importante nell'assistenza e nella cura dei pazienti.